Fare dell'Italia un paese in cui i cittadini siano tutelati e i diritti garantiti, in cui chi è nel giusto non debba temere lo Stato, in cui la criminalità sia osteggiata in tutte le sue forme, questo è il nostro obiettivo. Vittorio Ferraresi, deputato 5 Stelle, capolista nel collegio di Ferrare Modena, raccoglie il grido di allarme lanciato dai sindacati di polizia in queste settimane. La questione sicurezza è una priorità non più rimandabile, dice Ferraresi, dopo anni in cui chi ci ha governato non ha fatto altro che aumentare l'impunità, tagliare fondi e risorse alle forze dell'ordine, favorire la criminalità, umiliare le vittime, lasciare i cittadini in balia di loro stessi, continua il deputato Grillino, ci troviamo in una situazione allarmante per cui in molti oramai vedono nella giustizia fai da te l'unica risposta. Il Movimento 5 Stelle si impegna a portare avanti un piano assunzioni serio di almeno 10.000 unità nelle forze dell'ordine, fondi e strumenti adeguati. L'unico modo per permettere a chi lavora nel settore della sicurezza, continua Ferraresi, di avere un organico all'altezza dell'importante compito per cui già oggi tutti noi paghiamo le tasse. Difesa dei cittadini, custodia dell'ordine pubblico, sorveglianza nei quartieri, nelle periferie e certezza della pena possono essere così garantiti solo ridando dignità ai nostri agenti, ha concluso il candidato del Movimento 5 Stelle.